Ciao, non so quante migliaia di ore di streaming abbiamo fatto quest'anno, penso tante, penso siamo quasi sulle 2000 ore di live su Twitch. Su YouTube abbiamo milioni e milioni di minuti visualizzati, tanti tanti video, ebbene oggi vengo da voi innanzitutto per augurarvi buone feste, ormai siamo quasi alla fine, però spero siete passando questi giorni difficili, insomma state riposando, studiando, lavorando, qualunque cosa, ma spero che vada tutto bene. Beh, dopo quasi due o tre mesi che non registro un video, a parte quello della guida, di cui sono super contento, volevo dirvi che il canale YouTube riprenderà dal 2022 un'attività molto più diretta e molto più di scambio. Per questo avevo anche una storia da raccontarvi, ma me la tengo per la fine. Volevo dirvi che il 2021 è stato un anno particolare, abbiamo fatto come sempre tante ore di live, abbiamo creato dei bei contenuti, sono contento perché abbiamo dedicato molto, insomma, volevo fare 5-6 live di beneficenza, barra di community, e ne abbiamo create 4 nel 2021, ne mancherebbe una, dire il vero, che avrei voluto inserire in questo periodo, quindi probabilmente il 31 gennaio sarà la data per la mia prossima live di beneficenza. Abbiamo creato tanti contenuti, penso che negli ultimi due mesi sia mancato un po' uno scambio per il canale YouTube con voi, quindi sappiate che ci sarà un po' un'evoluzione a partire da gennaio di tutti i contenuti qua sul canale YouTube, vi invito ovviamente a seguirmi durante le mie dirette che sono in pratica ogni giorno sul mio canale di Twitch. Sul canale di Twitch, la prima live del 2022 sarà come sempre quella dei buoni propositi, quindi non mancate. Sono state raccolte le clip più viste di tutto il 2021, ammassate in enorme montaggio e ve le faccio vedere. Quindi, allacciatevi le cinture, preparatevi e godiamoci il rewind del 2021 con i best moments delle dirette di Twitch. Let's go! Un po' 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 un po'. Qua, ho fatto il giro. Niente, ok. Arrivanti all'ora di tutto il. Baby! Usiamo solo un naze. Vai! Oh, è arrivato un cadavere! Che era? Santa Klaus! GTA GTA Vai Il bus ce l'ha Vecchio È in sé in questa cosa Continua Continua Oh ha sbagliato Devo sbagliare Vecchio Welcome to the new season E non solo Ci muoio pure Fuori due Fuori due No Uno si fuori uno Non ce l'ho amore mio Vieni Se lo fa Se lo fa SEEEEEEEEEEE Siamo cari Siamo cari E' già là Guarda il suo team In contatto a noi L'ho visto Io l'ho visto Un po' di scurri Granade Un'ultima 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 Ci stanno Cosa è successa Scanno Quasi crackato il bloody Uno in OPEN alla mia destra E la in OPEN Il bloody è a 80 HP Li ho fatto Gli ho tolto a sinistra l'horizon meno 50 e 42 sticcata la rate quasi noccata l'ho quasi noccata mi avvicino gli ho fatto 180 aveva la red grandissima vado vado a fare casino quasi crackato è dual loctane sta bruciando una bruciata a morte wow è una loba però pensavi loba è un po' 5 viola, 1. 45 di modo. Ray brucia, quasi accata. Mi ha distratto la mano e la uso. Locata la rate. Anche rotta. Mi sono tutto sulla roba. 1-1 contro la roba. Si vola. Ok, no. Stagliato. Vedo 2-1. Fuori 1. Manca l'ultimo dietro. Vai, puliamoci, cambiate armor. Maestro del loot, avessi già una blue. Per quello che è. Tranquillo, adesso la pro qua trovo una viola. Eccola qua, visto? Easy. Raga, l'ho fatto davvero. Vabbè. Oh, c'è un tipo là, raga. Raga, raga, c'è un tizio là, non ci ha visto. Dobbiamo andare. Siete pronti col pad 3? Vabbè. La red, la red. La red, la. Vado. Oh, bella. Allora. Allora. Allora, non mi è matta. No, non mi è matta. No, non mi è matta, giuro. Eccolo bastanto, quando... Giuro, 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 giuro. Il resto dove vai? Ok, lampazzino. Oddio. Ma cosa stai facendo?! Non si sono accorti di me Scusa Cos'è appena successo? Non ho ben capito Ok, questo è i tre shot più strani Della mia esistenza, lo giuro No, io vado, basta Vado anch'io, dai, basta Ma dove vai? Oh, Dio! Cosa è successo? Wow, era qua il cheater Ma perché l'ho beccato io? Sì, sì, ma perché l'ho beccato io? Perché? Cos'era quello? Bisogna mettere un pochettino di suspense Bisogna fare come fa Nisa Oh, c'è uno, c'è uno Comadre, che paura Aiuto Ma che cazzo di infarto Ecco, questa è Nisa alle tre del mattino Ma se è uno stronzo Io sono master scritto ma bronzo dentro Che cazzo fai così? Non sono pronta a sta roba Tommy Mi blada Mi spara dappertutto la gente C'è un altro team o sbaglio? No No, sono sempre l'oro Puscia Un secondo Guardatevi L'appo, l'appo Stai violata Mamma mia Vara, vara Ecco Ma, commesso Non tippano Ma, io sarei morta, è morta, è morta Prende il TP Ma che cazzo di girata ha fatto sta parte? Oh, oh, e ne abbiamo una Dovremmo prendere quel banner Signor venti, tutto bene? L'avendo a terra Ha preso No, non c'è fa Ma io sono stupido Chissà ma c'è più io C'è più io, merdee C'è più io, merdee Il track Distrutto Dove che so? Dove che so? Dove che so? Dove che so? Davanti al ponte Al ponte, al ponte È solo uno La bolla E lo distruggo Ma che fai, vecchio? Ma vieni qua Senti, lo spiego al punto Dai Dai Ok, vai Go, ready Saremo in tre adesso in coda Guarda, noi siamo in tre, ecco Non si posso credere L'altro team, eh Ci manca l'altro team Mi ha giocato Guarda, guarda Guarda, due down Due down L'armo giù a po' al volo Lo sentite? Lo vedo, lo vede qua Strutto Strutto Letteralmente Uno Oh Che numero gli sto per fare È sceso giù nel punico letto Vai, ve lo fate voi Sa che è difficile Mi sa che non si prende, basta Mi sa che è un po' complesso Ti pushano Pushano al Ok, tutto cae Tranquillo Distrutta La roba è uno Dai distrutti Bazzi, bazzi, bazzi Bazzi Porca misera Aspetta uno Fai con calma È fuori Bravo, vecchio A me sembrano Raga, sono Sono un solo team Sì, stanno spettatissimi Siamo Pricciamo qua Pricciamo questo Tra un secondo Guarda, dai, dai, dai Muori uno Grande Vai, lo fate Bravo Dietro forse Damme, damme Nice Tra una vicina 60-120 dentro questo cut Vado Fatta, fatta Arrivo, arrivo Ascoltato Io presto, presti Go, go, go in Se è ancora in mancato Guardato Manca l'ultimo È l'unico È line È line Lu curati, curati tranquillo Alla bianca, mi sa, l'ultimo Sì, sì Alla bianca, la bianca Bravi, bravi Vagli in bolla Vagli in bolla Vagli in bolla Volano, volano L'ultimo è sotto di te L'ultimo Sì, a fossa Sette Non abbiamo line Ma chi pensi Avrà che fare Wall jump Wall jump Wall jump Wall jump Wall jump Lash, lascialo Lash lockata Un white Entro qua Andiamoci swap Un swap Un swap Slopato Un swap Mi sa che è lì dentro Sì Manca l'ultimo Manca l'ultimo Sì Let's go Forza ragazzi Spacchiamo Qualche settimana fa Sono andato Fuori Milano A Pavia Per Per un compleanno Entrato Nella In un autogrill Sul percorso Insomma Io abito in Liguria Ero a Ovada Ero di strada Per andare a Pavia Mi fermo Nell'autogrill Penso l'unico che c'è Da quelle parti E Alla cassa Alla cassa Mi fermo un ragazzo Mi dice Ciao grande Ma tu sei al Grandissimo Ti seguo su youtube Io mi congelo E penso Cavolo Era dicembre Quindi era inizio dicembre Fine novembre Mi congelo E dico Parca miseria Ciao youtube Sono solo ricaricando Dirette E mi sono sedito in colpa Faccio tante ore di streaming Però effettivamente Si può migliorare Quindi Mi piace Mi ha fatto piacere Perché comunque Ragazzo mi seguiva Ma sono sicuro Che il canale youtube Tutti voi Che non avete Ovviamente le ore Per mettermi in diretta Lo capisco benissimo Quest'esigenza Se volete Una parte più compressa Dell'esperienza Anche di quello Che andiamo a vivere Ogni giorno Su twitch È giusto Che venga in scatolato E Ci siano dei contenuti dedicati Ed è una cosa Che mi riprometto Ormai da anni Penso che chiunque Mi Ha avuto modo Di seguirmi Nelle registrazioni Sappia Che sono Sono carente Ed è una mia colpa Assolutamente Sono io carente Nel fare Nel interloquire Con voi Quindi Tra i miei buoni Proposi del 2022 Sarà Essere Un pochino più Figliato Con voi Subite dal tubo E Raccontarvi un po' Cosa sta accadendo Questo Se il video vi è piaciuto Vi siete divertiti A me ha fatto impartire Questo montaggio Mi ha fatto ridere E poi c'erano delle belle azioni 2021 è stato Un bell'anno Tutto sommato Con i suoi momenti brutti Anche Ma alcuni Li avete anche vissuti Siamo a me Ma Alla fine ci si rialza Quindi Frasi fatte Le abbiamo dette Lasciate un like Se vi è piaciuto il video Seguitemi su twitch E noi ci vediamo Al prossimo video Nel 2022 L'anno prossimo A tutti